Nuovi problemi legati alla convivenza tra bikers e pedoni nell'Alto Garda. Nei giorni scorsi, su un tratto di sentiero del Monte Brione, è stato apposto un divieto con tanto di staccionate orizzontali. La denuncia è arrivata direttamente dall'associazione Bike Garda Trentino, presieduta da Silvio Rigatti. Le barriere dividono, ha commentato Rigatti. L'educazione e il rispetto fanno crescere. Vietare sì, barriere no. Il rispetto delle aree protette si fa insegnando. Un post che evidenzia l'inadeguatezza del divieto è che viene spiegato dal segretario Claudio Chiarani. Non siamo contro ai divieti per partito preso, chiarisce il segretario, ma erigere i muri non serve. Siamo consapevoli che nel caso specifico sul Brione vi è un biotopo e proprio per questo deve essere spiegato ai bikers, che di lì non possono passare per una questione di tutela ambientale. Sulla questione, immediata la risposta del presidente del Parco Fluviale della Sarca, Gianfranco Pederzogli, che ritiene opportuno fare alcuni chiarimenti. È risaputo come il Monte Brione sia un luogo di speciale bellezza e biodiversità. Meno noto è il lavoro che sta svolgendo il tavolo di coprogettazione Monte Brione, costituito da Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile della provincia, Stazione Forestale di Riva del Garda, Rete di Riserve Basso Sarca, Comune di Riva del Garda, Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, Museo Alto Garda, Garda Trentino S.P.A., Outdoor Park WWF Trentino, Coordinamento Ambientalista AGL, Associazione Garda Bike Trentino, Gruppo Alpini Sant'Alessandro, Consorzio di Miglioramento Fondiario Olivo di Riva e Comitato Salvaguardia Olivaia. Il tavolo di coprogettazione ha acquisito inoltre l'importante lavoro coordinato nei mesi scorsi da Garda Trentino S.P.A. relativamente all'aggiornamento dei sentieri ciclabili, nell'ambito del quale le associazioni di biker sono parte attiva, che per il Monte Brione vede la conferma dei soli percorsi già autorizzati. Grazie alla collaborazione di squadre di operai forestali del Servizio per il Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambiente PAT, sono state posate alcune barriere agli ingressi vietati, che sono state però abusivamente divelte e subito rimesse in loco, ma nuovamente danneggiate. A fine maggio la rete di riserve Bassosarca ha stanziato le risorse economiche a favore della realizzazione del progetto integrato Monte Brione e ha sollecitato le associazioni a presentare proposte di attività di sensibilizzazione e informazione. Il WWF Trentino, assieme ad altre associazioni ambientaliste locali, ha presentato una proposta ricca di attività sul Monte Brione, ma purtroppo si rileva che nulla è pervenuto dalle associazioni dei bikers.